In ricordo dei martiri, delle foibe e degli esuli costretti a separarsi dalle proprie radici per rimanere liberi e italiani. Così recita la stela situata sul prato del parco 4 novembre di Andria, dove questa mattina alcuni cittadini e le istituzioni locali si sono riuniti per celebrare il giorno del ricordo. Il 10 febbraio del 1947 è il giorno in cui vennero scritti i trattati di pace di Parigi, quando alcuni territori dell'Italia nord-orientale furono annessi all'ex Jugoslavia, costringendo gli italiani rimasti fuori dal proprio paese a cercare di tornare nella loro terra per preservare la libertà. Allo stesso tempo, il 10 febbraio, è il giorno scelto per ricordare il massacro delle foibe a cavallo della fine della Seconda Guerra Mondiale, dove persero la vita migliaia di italiani. In Italia la ricorrenza è celebrata dal 2004, ricordare, hanno spiegato dall'associazione.it e dal comitato 10 febbraio, è fondamentale e bisogna farlo soprattutto nelle scuole. Non solo vogliamo preservare la memoria di questo giorno, ma il nostro compito, proprio insieme all'associazione mia, che presiede l'associazione.it e insieme al comitato 10 febbraio, è quella di tramandare la memoria ai posteri, ma soprattutto ai giovani. E il mio, faccio un'esortazione, dobbiamo parlare di più nelle scuole. Quindi parliamone nelle scuole, perché è importante a monito per il futuro, per fronteggiare la cultura dell'odio. Il momento commemorativo è stato aperto dal coro della scuola vaccina, che ha intonato l'inno italiano e presieduto dal sindaco di Andrea, Giovanna Bruno, che ha ribadito l'importanza di ripartire dai fatti storici, per costruire società sempre più civili e attente al fenomeno della violenza. Anche la presenza dei ragazzi oggi, diversamente dall'anno scorso, in cui la pandemia ci costringeva a delle restrizioni ancora maggiori, la presenza dei ragazzi ci serve proprio a questo. Tra l'altro questa è la settimana contro il bullismo, questa è la settimana in cui purtroppo nei nostri comuni, nelle nostre città, si registrano degli atti incresciosi, proprio ad opera di ragazzi, di minorenni. Quindi questo significa che bisogna fare un lavoro importante, lavoro che non può prescindere dalla memoria storica. Loro devono sapere che cosa significa essere autori e protagonisti di violenza. Non è soltanto la violenza finalizzata allo sciacallaggio, è una violenza che poi in altri contesti storici è diventata massacro e quel massacro è dietro l'angolo come pericolo. Quindi su questo bisogna fare molta attenzione.